Sono Betty Roetta, 5 anni fa mi sono candidata con l'impegno di dare un contributo alla mia città. L'esperienza come assessora ai servizi sociali è stata per me straordinaria. Ho incontrato e conosciuto molte persone, ho ascoltato storie di vita a volte drammatiche e in molti casi come servizi sociali siamo riusciti a dare risposte efficace ai bisogni. Ho deciso di ricandidarmi con la lista Riccardo Mortandello Sindaco perché credo che non possiamo permetterci di tornare indietro e perché Montagrotto Terme sia sempre più una città accogliente e inclusiva dove nessuno resti indietro o si senta solo.